Certamente la difficoltà è spesso stata quella di dover suggerire misure di contenimento e di mitigazione, la cui dimostrazione scientifica di efficacia era debole, mentre invece i costi sociali e economici erano certi. Ci faccia un esempio del passaggio? E' l'errore più grande che avete fatto in questo anno in cui lei ha partecipato al CTS? Forse l'errore più grande è stato quello di non aver prodotto molta comunicazione, anzi direi non aver affatto prodotto comunicazione. E' lasciato invece spazio a una serie di virologi autonominati che hanno gestito la comunicazione.